Il maltempo e le forti piogge hanno messo in ginocchio l'isola d'Ischia, tanti disagi e soprattutto i danni causati dalle precipitazioni che da diverse ore senza sosta stanno riguardando l'isola verde e l'intera regione Campania. Oltre ai piccoli smottamenti, gravi danni sono stati registrati a Casamicciola Terme, in via Corso Vittorio Emanuele, località San Pasquale, dove un muro di grosse dimensioni ha completamente ceduto quasi sicuramente a causa delle forti piogge di oggi. Al momento la strada è completamente bloccata ed è impossibile circolare con automezzi. Si attendono i mezzi speciali per la messa in sicurezza e per liberare la strada. Non ci sono feriti ma ha rischiato non poco il proprietario di un'auto parcheggiata proprio sotto il muro crollato, auto che tra l'altro è stata completamente danneggiata e coperta dai sassi. In queste occasioni ci si chiede come sia possibile che con una giornata di pioggia si possa rischiare la vita o comunque subire danni non di poco conto. Resta però il fatto che in giornate come queste quasi non fanno più notizia tali accadimenti. Così non dovrebbe essere ma è la triste realtà che caratterizza la nostra isola e non solo.